New Generation parlerà di sport e di uno sport conosciutissimo come ciclista. Qua abbiamo questa sera un ragazzo giovanissimo, a solo 18 anni. E lui quindi è una mosca bianca che ha la possibilità di portare il nostro territorio ai massimi. Buonasera, Alessandro Perracchiove che è al centro è con noi ma insieme a lui ci sono anche i genitori Massimo ed Elisabetta.